Il Premio Nazionale Donna 2023, organizzato per la quinta edizione dalla Ollus Antonio Padovani, è andato a due donne che hanno incarnato la loro vita sui valori della legalità, della giustizia, della lotta alle mafie. Federica Angeli, giornalista di Repubblica che dal 2013 vive sotto scorta per le sue inchieste contro il clan degli Spada e non solo, e Tina Montinaro, vedova di Antonio, caposcorta del giudice Giovanni Falcone, che non era presente per motivi personali. Tra i presenti anche il generale dell'arma dei Carabinieri Antonio Cornacchia, amico personale del giudice Falcone, colui che peraltro ha ritrovato il corpo di Aldomoro e che arrestò Renato Vallanzasca. La giornalista Monica Pelliccione ha guidato i presenti in un pomeriggio ricco di contenuti e incentrato sul ruolo della donna. Accanto a lei il prefetto Cinzia Torraco, Fabrizia Franca Bandera, presidente della Corte d'Appello, il magistrato Roberta Davoglio, oltre ovviamente al presidente della Ollus Gianni Padovani. Come ogni anno noi premiamo personaggi femminili che comunque si sono distinte nell'orio ambiti sia professionali che lavorativi per la qualità che hanno dimostrato nel corso dell'anno e quest'anno abbiamo deciso di toccare un tema molto delicato che è quello della giustizia e della legalità. Lo abbiamo fatto per lanciare un messaggio forte contro qualsiasi forma di mafia. Io penso questo, che la paura e il coraggio sono due facce della stessa medaglia e sta comunque a noi decidere da quale parte afferrarla. Accidenti, se non ci fosse la paura sarebbe in coscienza. Quindi è ovvio che c'è e ci deve anche essere perché è un'emozione comunque che ti permette di accendere gli alert e di fare in modo che tu possa stare attento a tutto ciò che si muove attorno a te, la paura. Noi immaginiamo di dover tornare a casa con il buio, in una via buia. È ovvio che si attivano tutti quei meccanismi di protezione e lo stesso è in questa nostra situazione. Però, come diceva Falcone, la mafia è un fenomeno umano e come tale è un inizio e una fine. Quindi anche da cronista, deformazione professionale, il coraggio mi è venuto da questa frase. C'è la curiosità, la voglia di andare a vedere come finiva, se c'era una fine che poteva essere la mia o la loro. In questo caso è stata la loro, ovviamente con il carcere.